Ciao a tutti da Saludatore, una grandissima sorpresa, una grande emozione con il maestro Vince Tempera. Eccoci qua. Ciao a tutti eh. Salutiamo tutti i fans di Golfec. Alla barda spaziale. Alla barda spaziale, io ho una sorpresa per me il maestro, la manina del Saludatore, il Saludatore. Così salutiamo tutti i suoi fans. È così eh. Esatto, è così. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Saludatore, gambe, maestro. Tempera, ciao. Saludatore.